Faccio il riassunto di Inter Juve TikTok se me lo banni sei un prescritto di merda. Si fanno sentire subito i sucaminchi e con una grande occasione per quel pecoraro di barella ma con codice fiscale non fotte un cazzo di nessuno tec ti amo. Ventitreesimo minuto di gioco splendida azione dei bianconeri col solito papà rabio che scambia con Duschan e poi serve Trenitalia che col suo sinistro da urlo porta in vantaggio la Juve godo 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 attenzione allontanarsi dalla linea. Gialla il treno nazionale diretto a Milano Centrale in partenza alle ore 21.08 mamma mia Filip fai di me quel che vuoi. Ma quanto è bello vederli piangere. Giusto per far spappolare ancora di più il fegato agli interisti ecco l'immagine della Rai in cui si vede palesemente che la palla non cambia giro proprio perché papà rabio non la tocca con il braccio sucate merde. 49esimo minuto di gioco occasione per Brozovic. PS domanda che non c'entra un cazzo ma secondo voi ha problemi con l'alcol. Comunque mi sono smerdata a bosso. 60esimo minuto di gioco destro secco di Locatelli ma... Blocca in due tempi vaffanculo cazzo. 73esimo minuto di gara bellissima giocata di mio fratello ma a volte anche mio padre Chicco chiesa pallone fuori di pochissimo merdaccia labbra. 86esimo minuto di gioco occasione per l'Inter con Mkhitaryan inutile dire che le mie mutande sono diventate ultras del Torino. È finita Godo vince la Juve di corto muso a nanna merde senza piangere su su. Concludiamo con la migliore giocata di Paredes da quando è alla Juve mamma mia quanto cazzo gasileo dopo questa per quanto mi riguarda rinnovo anche a 10 milioni. Grazie mille. 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 Grazie a tutti